Siamo contenti per comunque il risultato che siamo riusciti a ottenere, ci servivano punti, ci serviva la vittoria anche per la nostra fiducia di squadra. Ci siamo un po' persi ogni tanto, siamo state poco ciniche su alcune situazioni, però tutto su cui poter lavorare ci lavoreremo. Sì che potete avere a sperare degli obiettivi alti oppure no? Allora io innanzitutto mi trovo benissimo e sono molto contenta dei miei compagni di squadra perché ci stiamo trovando veramente bene. Siamo veramente un bel gruppo squadra e anche con lo staff mi stiamo trovando veramente molto bene, sono tutti molto competenti, bravi, bravissimi. Per quanto riguarda le aspirazioni, noi aspiriamo solo a fare il meglio e riuscire a portare sempre a casa il miglior risultato. Poi quello che sarà sarà... On fire nel tie break, hai fatto qualcosa di... Sì, volevo riuscire a dare fiducia alla mia squadra. E ci sei riuscita. Volevo chiudere questa partita perché dovevamo chiuderla per noi, perché era giusto così e volevamo prendere questi due punti, quindi sono contenta. Complimenti Denise, davvero complimenti. Grazie a voi. Ciao, grazie. Ciao.